Film partita simile a gara 1 con epilogo diverso. Stavolta l'amatori qui in maglia rossa fa centro e conquista con merito gara 2 contro Salerno impattando la serie che vale un posto nella Final Four di Montecatini. Domenica 2 giugno e martedì 4 la sfida si sposterà alla pala elettra di Pescara. L'opportunità per i ragazzi di coach Raiola è ghiotta perché vincerle entrambe significerebbe centrare l'obiettivo ma guai a pensare di avere vantaggi. Di fronte l'amatori avrà una corazzata nata e costruita per andare in A2. E veniamo alla gara, anche questa trasmessa in diretta sul Rete8 Sport. Ora possiamo dirlo, anche nella prima sfida l'amatori aveva dato l'impressione di poter battere Salerno controllando bene la partita grazie all'intensità difensiva e alla fluidità sotto canestro. La sconfitta era maturata nell'ultimo minuto quando la squadra ha accusato un calo fisico. Messaggio recepito nel bis di ieri sera. Stavolta la squadra pescaresi ha tenuto le redini dell'incontro evitando di scomporsi quando Salerno ha provato a strapparli e le ha carezzando un finale dolce come quello di gara 1. L'amatori invece tiene bene ed anzi chiude la gara con una bomba di potì a un minuto dalla sirena. Il finale è Salerno 86, Amatori 96 più 10 stesso di vario di gara 1 a favore dei campani. Ora le possibilità sono diventate 50 e 50. L'amatori da quando è avvenuto il ripescaggio in semifinale playoff ha mostrato stato di forma crescente e giusta maturità nei momenti decisivi della partita. Salerno rimane squadra fortissima ma che forse non si aspettava di trovare sulla sua strada un avversario tanto determinato. Domenica alle 18 il campo dirà con l'amatori che potrà contare sull'incoraggiamento del meraviglioso pubblico del Pala Elettra. Grazie a tutti!